Musica Bella a tutti ragazzi sono Amadino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo live commentary Oggi siamo qua per il 25esimo episodio dello sniping in live E nulla, è una giornata di primavera molto molto calda E useremo il DSR perchè non ho ancora sbloccato il bobeista Tanto per cambiare, comunque avevo voglia di usare il DSR, forse l'avrei usato comunque Siamo su raid, la lobby sembra essere abbastanza buona quindi vediamo un po' Tipo ci ho messo, è tipo 3 ore che cerco una lobby decente, trovo solo maestri prestigio Adesso ne ho trovata una, cazzi voglio fare lo start, voglio provare a clipare lo start E ci deve essere il compagno che mi blocca Oh, tipo wallbang Sculato come pochi Ok, ho iniziato Ho iniziato bene, va bene, tutto quello che volete ma devo abbassare il volume, merda Il tipo mi è arrivato che io ero lì che abbassavo il volume, tipo Minaccia rimossa Minchia Dove cazzo va? Ehi, fenomeno Uno al Visat Intanto abbiamo lo stealth Minchia ho Siamo partiti assai bene Madonna, non sbaglio un colpo Mi sto tipo sentendo hacker, non sbaglio mezzo colpo Sono diventato un fenomeno all'improvviso Una switchata divina Può darsi che tra nerding e tutto un po' bravo lo fossi già Ma minchia Così da non sbagliare un colpo col DSR non pensavo Dai Ne voglio uccidere uno con Ok Ci sono tornati i colpi Instancabile, oddeo No Santo Cristo Adesso tiro giù l'alfabeto delle bestemme Come ha fatto a uccidermi il cecchino di merda Io odio i cecchini Chiusa il cecchino è uno stronzo Ovviamente sto scherzando Lo sto usando anch'io Minchia Ho disimparato a fare sneaking Perfetto Hit marker Ciao Morto un po' da ritardato Però non potevo fare altrimenti Avevo finito i colpi del caricatore Siamo a 31-2 Quindi gara Sì gara Ormai mi sono fissato con la formula 1 Dico gara Partita Abbastanza convincente Sto facendo una strage Ma sono stra concentrato Però 41-2 Oh cazzo che partita raga Sono davvero al settimo cielo Per come sta uscendo sto live Penso possa essere la partita più bella Che voi abbiate mai visto Su Detmatch con un cecchino Perché Terzo stamp Terzo visap Ole 47-2 Di DSR solamente Tipo ho sbagliato in tutta la partita 3-4 colpi La perfezione nel giocare Boh Sono davvero stra contento La lobby Davvero questa volta Lo dico anche io Era fantastica Infatti adesso proverò a fare qualcosa di strano Però penso davvero che possa essere un video di vostro gradimento Anche tra attacca La connessione non andava da dio Ma sono riuscito a portarvi Questo live Quindi ragazzi Spero davvero che vi sia piaciuto Se è così mi invito a lasciare un bel mi piace Un commento Se ancora non lo siete Mi invito a iscrivervi al mio canale Che mi fa sempre molto ma molto piacere Siete davvero fantastici Intanto ho guardato un po' il mio rateo Uuuu E nulla ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Per oggi da Medina tutto E bella